Alle nostre spalle la prima azione in corso della 404esima fiera nazionale degli uccelli, ovviamente siamo al perdono di Terranova Bracciolini con il primo cittadino Sergio Chieni, sindaco, un primo bilancio della manifestazione di quest'anno, nel suo insieme una folla anche in questa occasione. Sì, c'è stata veramente una grandissima partecipazione, il perdono è una tradizione, ogni anno si rinnova e chiama a Terranova veramente tantissimi valdarnesi e non solo perché tra i partecipanti ci sono ovviamente persone che vengono anche da altre province perché le attrazioni della manifestazione sono veramente tante, quelle della tradizione che provengono dalla tradizione rurale, la fiera degli uccelli, i nostri agricoltori, il fischio d'oro, poi le manifestazioni sportive, quest'anno c'è stata la novità del Corri per Dono, sono partite circa 250 persone, quindi un numero importante per essere la prima edizione. Poi c'è tutto il nostro tessuto economico e produttivo, ci sono stand di qualità, i giochi per i bambini, veramente è una grande festa, un grande momento di aggregazione sociale e allo stesso tempo un racconto del nostro territorio perché si va veramente dall'aspetto produttivo, commerciale fino a quelle che sono le tradizioni popolari. Il perdono proprio per la grande affluenza presenta tutte le sue complessità, è un lavoro che richiede tanto tempo di preparazione, quindi ci tengo a ringraziare tutti, veramente tutti coloro, a cominciare dalla Proloco e via via, che si impegnano all'interno della manifestazione per garantirne la fruibilità a tutte le persone che vi partecipano.